Attenzione Questo è il momento dell'erotismo Guardate che essere erotico che abbiamo qua A nostra sinistra Fai la faccia erotica Guarda che espressione erotica La faccia erotica non basta Basta la faccia erotica? No! Bisogna conquistarle le donne Non mi viene da fare la sexy style Bisogna conquistarle Quando le avete conquistate le dovete portare a casa Sì E tranquillamente Tranquillamente Le portate nella vostra camerotta E fate i giochi erotici con il cibo Tipo 9 settimane e mezzo Sì Non è importante ora se voi non avete I cavoletti di Bruxelles, le fragole o il ghiaccio No! Quello che c'è c'è Lasagne, un et E via La prima cosa che trovate va bene Piatti anche più tipici nostrani L'importante è che sul più bello Non arrivi uno Che rompe sempre le scatole E che si chiama sempre Piero! Che rompe adesso